musica facciamo la furia del mizu apex dai che è l'unico che non abbiamo ancora battuto proviamo a batterlo vediamo se ce la facciamo ci scappa sempre quel maledetto va bene allora avvio sembra esserci roba più interessante poi mi serve il ragno che voglio fare sia l'armatura che un paio d'armi vabbè quella si il baserio le zuki la prima ondata sembra facile ricordati le sfere del ritorno che sono utili eh ma ce l'avevo prima ah non ho preso cosa la polvere di vita non me l'hai lasciata te l'ho fregata io non l'ho fatto apposta non ti preoccupare ah ma perché ce n'è una sola pensavo che erano due cioè che ti riempisse in automatico starò attenta cercherò di usarla quando ti serve ah vabbè ma non è un problema i gondi del contraattacco lo utilizziamo o lo togliamo ascolta io l'ho usato e non ho idea di che cosa abbia fatto brava utilità sto coso no vabbè io sono pronta responsabilità eh perché io non ho guardato quindi ma hanno detto tutti attacchiamo insieme o che ti fa attaccare tutti però già dovrebbero attaccare tutti non ha molto senso non l'ho preso muori 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 stanno passando gli ornitorinchi qualcosa è accaduto ecco l'incarica la mazione vabbè è immortale quello lì ah ok c'è roba qui l'ho vista volevi fregarmi e maledetto tu invece t'ho visto non vedo più devo spostarmi respingi con cannone automatico che ancora non abbiamo quindi non possiamo non abbiamo cos'è c'è il cannone automatico devo ricaricare un po' col carbone perché tutte le piattaforme stanno è arrivato il cannone ok ma ma me l'hanno rotto come l'ho messo me l'hanno rotto ma perché c'è un più più ma sono già passati oh no io non ritorinco ha fatto la magia c'è un più 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 c'hai provato ma l'hanno rotto ok ok questo è il solito nostro quindi questo qua è come il solito nostro cioè la mappa iniziale solita che utilizza dove metto un cannone un cannone una balista qui e quindi ok cos'è che c'è questo primo e vai vai cosa vuol sentire rumori spara spara all'uzzine ogre spiegata abbiamo primo i ragni l'uzzine ogre è andato un ragno qua dietro hai ragione vecchia vecchia non si stordisce più niente con la ballista comunque beh che era già a terra non l'avrei comunque sparato però ok ok mi è andato ce n'è mi sta arrivando un altro però aspetta che poi si riesco a prenderlo ok posso con la mazzatragge ok bravo boost che abbiamo fatto ok muori muori zine ogre ah ma è cavalcabile io che gli sparavo da 29 anni buongiorno Messi c'è qui un bestiolino un mizune se vuole su le manacce c'è qui un bestiolino vecchia vecchia morto c'è altra roba no che roba mi sono incastrata da dove arrivano ah ma non posso andare più indietro ah si che posso vai zino ma che minaggio incredibile che sta succedendo ma che raggio di morte l'ho prenduto sulla faccia uh come l'ho schivato storisci il mostro è fatto via 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 questo questo ok venite ancora un pezzettino presi bravo tutti strike c'è ragione vado ma sai che io non so sai che che avevo detto togliamo la bomba di bambuno invece sto continuando a ricaricare in quel punto e niente fa 400 di danno ogni volta ebbene non è male no non è male ah cacchio sono niente è un data respinta ok ci piace la data respinta si torno a ricaricare cose si torno a caricare cose e niente non posso più ehi ehi questo ce l'ha con me eh si doppio doppio come l'ho preso bene aspetta dov'è e pam vecchia vecchia infine abbiamo sempre usato di maniera sbagliata no li riposizionavo io ma non avevo capito se non avevi capito come funzionavano se si spostavano da soli dopo un po' no no bene o male li ho sempre mossi io ahia che dolores cos'è mi è arrivato un diablos nel sedere perfetto non andarmi a ricaricare la torretta però aspetta magari posso fare questo yes vai vai carica no diablos lasciami fare per favore lasciami fare ecco bravi sparate al sedere di questo diablos grazie tempo ridotto ok è arrivato ma porca miseria ah perché mi ha sturdito cosa sta succedendo lì ah ok ha rotto tutto perché non va esercato ma è vero che c'è non automatico c'era pure la massa draghi 2500 tutti è ah 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 fermo fermo ah 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 iscrivito di giù adesso eh io non lo so forse sì dai lo metto uno lo metto qua eh cacchio non c'è 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 solo fugen metto fugen non c'è una ceccante arrivo con i rinforzi mille e cinquecento di fa il diablos e buttali via dov'è che è il punto debole sto coso sulla schiena e sulla coda non so l'attacco filo a cosa serve con queste cose sinceramente ma io lo uso dice che abbiamo ok, uccidio no, che sta fatto? ok mena, mena cosa fa, cosa fa? staccati da qui vado a ricaricare volevo vedere se funzionava la mozza Draghi no, cacchio, non ho ancora ricarica io moji è stata sbloccata muoviti a caricarti emoji, no curo curo ok grazie vai emoji più, 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 più sta seguendo me, sto maledetto dove è andato? eh niente, io chiamo emoji e lui va via allora, facciamo così chiamo una, un'esca, ok vai emoji dimmi che ci tiri, emoji, ti prego non ci tira mica quella lì ma porca miseria no, piglia qua, almeno ti pigliai il maledetto perfora Draghi niente, emoji è sprecata perché come l'ho chiamato lui è andato via ok, iniziamo a sparare un po' adesso vedi se hai l'ammazzadraghi lì che è venuto da tua parte? bravo, che sto caricando cavolo ah, e niente me lo fai far mettere però ok, sta venendo da me niente, occhio tanto ricarico sta tornando ok beccati sto colpo puro, puro fatto vedi, sono stata brava eh bravissima grazie, grazie brava, più più erano finiti però li usate tutti e due adesso ahia, cosa mi ha colpito ma cosa mi sta colpendo ah, perché lui si muove e muovendo si rompe mano ho capito interessante dove ho messo la figura ok, li usorvio la cacca ok io ho perso la mia cosa tiro, tiro vai 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 yes, preso ok, fatto tutto ah, scusa non ho visto che l'hai arrivato qua ok, non ho visto che l'hai arrivato qua oppure che qualcuno le ho preso ahia ok brava ma scusa continuo a fregarti la roba eh vabbè ma l'importante è che qualcuno faccia vado ricaricando dall'altra parte si ebbela mollami you're gonna be fine basta però mi ha giocato una cecante mi ha rotto tutto qua non so se ci arrivo con non so se ci arrivo con ehm come si dice con ehm si perfora drag ah no, in teoria si si, in teoria si in me lo va già anche lo prendi però proviamo bravo ok metto a ricaricare si c'è qualcosa di automatico eh no c'è solo la distrazione un minuto c'è una mazza draghi da te eh ma non c'è nessuno e anche da me volendo preso preso a tempo bravo bravo però in 30 secondi mi sta che non riusciamo a far no ok che vado e è morto piso di cacca no no se ne va non riusciamo ad ucciderlo questo non capisco ma è finito il tempo si vediamo in breve perché non muore questo non so perché magari ehm dovevamo farlo passare la successiva Sai che c'era il cannone più potente È vero Però prima ce l'avevamo E vabbè è vero che ho perso un po' di tempo Per fare quell'uccisione l'altra volta No aspetta prima c'era Non avevamo il cannone potente Però scusa Prima è andato via Ci abbiamo messo 27 minuti e 16 Adesso è andato via a 27 minuti e 52 Che tempismo abbiamo da seguire Scusa Non lo so Siamo bravi Comunque puntuali alla fin fine Comunque gemma bestiale del Rajang A me va bene Il video di oggi termina qui Una furia contro il Mitsuzune Apex L'unico Apex che fino ad ora Non siamo riusciti ad abbattere Tutto il resto persino lo zinogre Apex è venuto giù Ma il Mitsuzune continua A sopravvivere alle nostre furie Salviamo il villaggio di Kamura Fermiamo l'attacco della furia Ma il Mitsuzuna scappa sempre Maledizione Chissà qual è il segreto Per abbattere questa creatura Comunque per oggi è tutto Io come sempre vi ricordo Di lasciare un commento Un like Ed iscrivervi al canale Se non lo avete già fatto Vi auguro una buona giornata Un saluto a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.